I continui tagli al settore dei trasporti, le politiche di privatizzazione e l'abbattimento dei diritti dei lavoratori contenuti nel Job Act di Renzi sono solo alcune delle questioni che gli autoferro-tranvieri porteranno in piazza il prossimo 30 marzo. L'USB, l'Unione Sindacale di Base, rivendica infatti una centralità nel dibattito della gestione del trasporto pubblico e non solo. Si dicono scontenti dell'accordo, meglio noto come testo unico di rappresentanza, siglato da CGL, CISL, UIL, UGL e Faesa CISAL. Ascoltiamo Marco Sanzone, coordinatore provinciale Unione Sindacale di Base. Vediamo dalla firma dell'accordo del 10 gennaio che noi non condividiamo per mille motivi. Il principale è il fatto della rappresentatività che a tutti gli effetti cerca di buttare fuori l'USB dalle RSU e quindi praticamente noi finiremmo con non essere più rappresentativi. Un confronto, quello aperto dai lavoratori USB che vuole coinvolgere la cittadinanza intera per affrontare il prossimo sciopero nazionale coesi. La lotta dei poveri non serve a nessuno, che è unire le forze per un servizio pubblico locale che sia più efficiente e qualcosa di comune, una lotta che dovrebbe accomunarci tutti. Da qui nasce questa assemblea dove cerchiamo di coinvolgere i movimenti, i cittadini tutti, ovviamente i lavoratori, affinché si capisca che il problema è affrontato dal nostro punto di vista in modo conflittuale. Quindi informare i lavoratori e portare allo sciopero del 30 affinché le maestranze capiscano che siamo arrivati ad essere saturi da questo punto di vista.